Roland, Clara, miglior tempo di giornata, sesto tempo finale, non c'era il miglior modo per poter finire questo tour deski? Sicuramente no, non me lo aspettavo proprio. Un tour che c'è talmente tante gare al classico, di essere talmente in classifica all'ultimo giorno, poi ho avuto una buona alleanza nel piano giù, in salita mi sentivo bene, ho combattuto fino all'ultimo metro con Jespersen e vincere la prima gara di Coppa proprio oggi, un sogno. È un'altra grande soddisfazione, questa salita si dice abbastanza le tue caratteristiche, quindi sei molto contento. Sì, ho già fatto due volte un poggio qua e sempre poco dietro al primo, oggi con due secondi, sono il primo io, sono felice. Complimenti.